bentornati a i grandi temi della psicodinamica alla portata di quasi si spera tutti parliamo di libido altro grande termine famosissimo della psicologia della psicanalisi freudiana che ha conosciuto una grande popolarità cioè molto noto quindi come termine e c'è anche un film col titolo libido ma in realtà non fu libido non fu un concetto di origine freudiana e freud infatti lo prese dal neurologo e sessuologo albert moll che già nel 1898 a fine dell'ottocento parlava di libido sexualis nell'infanzia e devo dire che peraltro sono sospette anche le similarità fra la teoria dello sviluppo psicosessuale della quale parleremo espressa da freud nel 1905 in tre saggi sulla teoria sessuale nel quale lui non cita fra l'altro minimamente moll e ciò che aveva scritto moll sette anni prima per cui insomma un po rubicchiato ad ogni modo per freud la libido è un energia libido uguale energia per l'esattezza è l'energia che muove la pulsione sessuale verso un oggetto cioè verso una persona verso una meta in effetti la libido può prendere come meta la persona stessa che la prova e parliamo di libido dell'io o narcisistica come abbiamo detto circa la pulsione oppure un soggetto esterno una libido oggettuale ed è quindi logico che la libido oggettuale diminuisce quanto più aumenta quella narcisistica e viceversa cioè più investiamo in noi meno possiamo investire all'esterno e il contrario è interessante anche il fatto che freud osservò come la libido dei pazienti che rispondevano bene alla terapia la psicoterapia e con i quali si instaurava un profittevole transfer altro termine quale parleremo in futuro fosse una libido plastica cioè capace di cambiare l'oggetto delle sue mire il modo di soddisfarsi i pazienti meno rispondenti invece mostravano una libido detta viscosa ad indicare una difficoltà della libido di questa energia a fissarsi su una persona o a cambiare investimento una volta stabilizzatasi ricordate vera questa cosa quando si parla di relazioni tossiche gelosia patologica e femminicidio insomma per sintetizzare e mettendo insieme anche le idee di altri autori possiamo dire in conclusione che la libido è una funzione dell'io una sua energia mirata sia alla ricerca del piacere ma soprattutto alla ricerca delle relazioni con un oggetto che ricordo e poi ne parleremo diffusamente va inteso come persona o parte di una persona al prossimo concetto